Nella chiesa di San Domenico a Città di Castello sono iniziati i lavori di restauro di due affreschi posti nella parete di sinistra entrando dalla porta adiacente all'ex ospedale. Il primo raffigura Madonna in trono con Gesù Bambino e Santi, che il canonico Alessandro Certini, nel libro dal titolo Origine delle chiese e dei monasteri di Città di Castello, attribuisce al doceno, ovvero Cristoforo Gherardi. Il secondo dipinto è strutturato come un trittico e nella parte centrale raffigura Santa Margherita d'Ungheria che riceve le stimmate. L'affresco è stato indicato come lavoro di scuola Umbra. La soprintendenza archeologica delle belle arti ha approvato dunque il progetto redatto da Rossana Parigi, che opera insieme alla sistemazione delle opere con Silvia Martinelli. L'anno scorso, ad aprile, abbiamo presentato il restauro della Madonna con Bambino, posto in controfacciata qui a San Domenico. Quando ci siamo lasciati abbiamo detto proviamo a sviluppare un progetto per recuperare, per restaurare anche gli altri affreschi che avevano maggiore necessità di queste opere. E naturalmente ci siamo spostati sulla parete di sinistra, perché è la parete nord, che vede quattro affreschi, tutti quattro bisognosi di restauro. Abbiamo fatto una raccolta fondi che ci permette di partire con i primi due, oltre che al contributo dell'Associazione Chiese Storiche, ai contributi del Vespa Club di Città di Castello, del Circolo Culturale Luigi Angelini e del Centro Italiano Femminile sempre di Città di Castello. Il nostro obiettivo sarebbe anche di continuare con gli altri due affreschi che sono un Sant'Antonio Abate di Antonio Alberti da Ferrara e un trittico che vede una natività dove è rappresentata invece anche Santa Margherita da Città di Castello. Dalla lettura del documento si evince un elevato degrado degli affreschi. Sono coperte da strati di polvere consistenti e depositi incoerenti che ne rendono difficile una lettura precisa delle opere. Inoltre ci percepiscono crepe e numerosi fuori sparsi, abrasioni e cadute di colore. Il progetto del restauro autorizzato e programmato con i fondi dei edifici di culto proprietario della Chiesa di San Domenico, concordato con la diocesi di Città di Castello e la parrocchia di Santa Maria Nova in San Domenico, è curato dall'Associazione Chiese Storiche.